Fai un freestyle PLS E' una tv qua E' una tv qua E' una tv qua E' una tv tra Nasca e Violet E' ok Non mi abbia per culo Vaffanculo Diego Nasca Non se lo incula nessuno Ok Violet E' Non so che dite Per favore soffoca me con le fine Ok No non c'entra niente Non c'entra niente te Ho fatto un fissuto No no non sei tu Non so io Ho quanti amici c'ho che si chiamano Diego Nasca Fra o meno un 10 Il tipo Diego Nasca Ok che so io E' il secondo No l'altro E' l'altro A Roma Ah a Roma Non conosci i miei amici da Roma Ok Diego Nasca E siamo già a due Siamo a due Ok poi Allora dillo che erano quello da Roma Non era per me Esce il favore Sto facendo la stanza Aspettate che ti mangi 10 euro Ma no faccio un freestyle su di te Faccio un freestyle su di te Dai No non mi scureggia in camera Ok Il Cardovent è il freebooter più veloce del web Ok Ok Grazie a tutti